La tana del frerito Ciao Broderigno Comunque È il momento di farti intervistare la Denalmond Il ragazzo in alta destra quello bello E quindi possiamo Possiamo iniziare Perfetto, allora Ti spiego come funziona questo format, cara Lola Denalmond è un ragazzo Insomma Vabbè lo vedi che comunque è molto bello Vabbè Tu sei fidanzata Lola? No Non più Ah, tasto dolente Eh, sì Vabbè comunque non è rilevante E Denalmond praticamente Vuole farti un'intervista molto tranquilla Su cose a caso Che non vanno a includere quello ovviamente Quindi super tranquilla Da quel punto di vista Ti chiederà un po' della tua vita, di cosa fai eccetera Lui non ti conosce completamente e poi alla fine Verrà intervistato Denalmond in cui dovrà appunto Rispondere a delle domande su che cosa fai nella vita Non so se ho reso Scusa non ho capito l'ultima parte Siete mesi Svegliati Bene Va bene Ok Ciao Ciao Innanzitutto Come stai? Bene Bene T'ho a posto Cos'hai fatto oggi? Allora Sono scesa con Allora Innanzitutto Sono andata David Porco Diaz All'Università All'Università E poi abbiamo mangiato a casa della mia amica Sì con la testa se mi senti Sono riuscita con delle mie amiche Ok Ok Va bene È una giornata abbastanza Piena Certo vedete Esatto Sì Grazie Giorgio David Ti devo mutare perché si sente l'auto del coso Allora Allora Lola Ma cosa fai nella vita? Allora Io studio all'Università Faccio Fashion Design E a breve avrò concluso il mio Percorso insomma Perché sto al terzo anno Ma dietro c'è un reggiseno Perché ti piace? E poi Vorrei Dopo la laurea Praticamente Qualcosa di mio Per quanto riguarda sempre moda Perché è stata Cioè Da sempre la mia passione è più grande Ma dietro c'è un reggiseno Perché ti piace? Ma Dietro c'è un reggiseno Un manichino Sì sì Ah no 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 Non ho capito Vai pure avanti È un manichino sartoriale Queste sono le mie realizzazioni Diciamo Le cose che facciamo All'Università Bella merda Bello No scusi No ma sei un trentino Porco diaz Non ti sconvolgere Perché immagino Che non te ne frega un cazzo No me ne frega Me ne frega No 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 Me ne frega Quanto un dito nel culo Che mi ravana dentro Proprio Scherzo Proprio nel culo Che mi ravana dentro No scherzo Scherzo No ma figurati Non mi ferisce niente Tranquillo Si è mosso il manichino Ma fai finta Oh oh Oddio si è mosso Eh si muove Si è mosso il manichino No non mi ha mosso il manichino Oh occhio Si muove Si muove Si muove Si muove Oh attenzione 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 Comunque si sono particolari Insomma Beh Ma non sono un po' troppo scoperti No vabbè Questo è fatto a caso Cioè Sono solo per farvi dire Che comunque sappiamo fare Le manipolazioni Perché così si chiamano Ah manipolazioni Ok Testili Allora Manipolazioni in testa Se dovessi scegliere Cinque parole Che più definiscono La tua realtà Allora Se dovessi scegliere Cinque parole Che insomma Definiscono La tua realtà La mia realtà C'è nel senso Io O realtà Nel senso La tua realtà Non è che posso spiegarti Al volo Al volo La tua realtà Al volo Insomma Il tuo mondo Le tue idee Allora Determinazione Ok Volontà Ok Alla prossima Amore No 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 Non ridere ora Non ridere ora Rida la prossima Apatia Ridi 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 Eh no Ma mi No Ridi Ridi di brutto Minchia spaccati L'apatia Comincia a ridere No dai Non ci credo che l'ha detto Non è vero Dai ragazzi Non ci credo Entrate tutti Ha detto alla cazzata Dentro Dentro Non ci credo Non ci credo Ha detto alla cazzata Vi prego Entrate 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 dentro No chiedi scusa Chiedi scusa Chiedi scusa No no Chiedi scusa Non si prende male Chiedi scusa Chiedi scusa Chiedi scusa Questa è per ma Questa è per ma Questa è per ma Scusami no No scusami No lo sto scherzando Scusami Tranquillo No 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 Ma stavo scherzando No è vero Stavo scherzando Scusami Situazione Che riso Che riso su una cosa Che riso su una cosa che Cioè Non ci trovo No 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 Chi vi scusa No 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 Guarda No 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 Scusa Scusa Davvero Chiedo veramente scusa Ho esagerato Ho esagerato Davvero Ho esagerato Ma con gli altri Cioè non ci trovo il senso No no Ma non c'è il senso Cioè guardami in faccia No davvero Ma non c'è il senso Guardami in faccia Per favore Sì Beh guarda Ripensando a quello che ho fatto Non lo farei mai più E capisco Cioè Mi immedesimo perfettamente Nella tua situazione Sto aspettando le parole Comunque Che parole La parola magica Ciao Camilla Masato Ciao Bianca Ciao Camilla Masato Ciao Bianca Come va Ciao Mi aiutate a risolvere Il mio rapporto con Lola Perché l'ho per sbaglio Offesa Non volevo Potete per caso Aiutarmi A riallacciare Il rapporto Con Lola Perché per sbaglio L'ho offesa E quindi adesso Insomma Mi sento un po' Una merda Bianca sei muta Cioè sei mutata Chiedi di girare il telefono Sì sì Se puoi girare anche il telefono E metterlo In rotazione schermo Così Così Attivare la rotazione schermo Sì però attivare la rotazione schermo Automatica Porca puttana Porca troia Scusa Ok chiedi scusa Lola Scusami Lola Scusami Lola davvero Allora Bianca Camilla Masato Bianca Camilla Masato Allora Non dire niente Lola mi manchi Scusami 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 un attimo Basta scusami Allora te lo dico Sto scherzando Sto facendo un po' il pirla Sto scherzando Cioè nel senso Sto facendo un po' il pirla Parliamo con Camilla Masato Camilla Masato Cosa stai guardando? No ma non ce l'ha bisogno Che tu me lo Dicessi Voglio stare in cielo come l'aria Ma no Non lo so E dove varro se non sono con lei Se non mi sento più me Non voglio stare immerso nelle pagine dove te Dicevi che non mi hai Ma che cosa vuoi che faccia? Ma no Non voglio spazi Ma no Mi manca un bacio però